Buonasera, siamo a Piazza del Gesù a Napoli in compagnia dell'Avvocato Linda Corrias. A Linda chiediamo subito cosa c'è da aspettarsi nei prossimi mesi da questa falsemia e da questo andamento politico che purtroppo sta condizionando in maniera pesante la vita degli italiani. Allora, non vi dirò cosa c'è da aspettarsi perché non me lo voglio aspettare. Vi dirò cosa auspico. Auspico un risveglio della popolazione, auspico una affermazione di chi già ha capito, un'accoglienza nei confronti di chi non ha capito perché non si deve presupporre la divisione. Non voglio dire un mondo alternativo tra chi sceglie una narrativa e chi sceglie l'opposto. Ma voglio una compenetrazione che porti alla comprensione, dove farò di tutto perché ognuno si riprenda in carico la libertà di scelta. A tutto tondo il senso critico, la vera affermazione della propria identità. Non voglio sentire nessuno che dica che sceglie una strada perché è quella più facile. Perché quello è un perdente. Grazie. 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 Grazie.